Jack! Si gira? Ok, tocca a me. Sì. Ma quanto sono lunghe le sue? Sono in difficoltà. Per me è la cipolla. No, vabbè. Vedi? Sì. Bugia. Carta, forbice, sasso. Sì! Allora, a quale compagna non faresti mai uno scherzo e perché? Penso che non lo farei mai a Daghard. Perché ho paura della sua risposta e del suo modo di fare. Mimaci, un'esultanza di una tua compagna. Vale che fa gol al derby. Così. Sì, proprio mi piaciuta. La foga, giusto. Inno nazionale. Una canta, l'altra mima il direttore d'orchestra. Fratelli d'Italia, l'Italia sedeste. Basta. Novantesimo minuto. Portiere espulso e cambi finiti. Quale compagna vorresti in porta a parare il rigore decisivo? Linda ce la vedo, sì, sì. Linda proprio ci sta in porta, sì, sì. Tocca a me. Riproduci le seguenti emoji. Ah, beh, questo è posamen. Bellissimo. Posamen. Pesa più un chilo di piume o un chilo di ferro? Pesa di più... qualcosa che non sia un chilo, ma di più, insomma. Non pesa di più niente. Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone? Un po' difficile. Bianco? Wow! Cioè... Mamma mia, ragazzi. Cultura generale 10 più. Gigi D'Agostino o Robin Schuh? Gigi D'Ag. Forza. Quali qualità calcistiche mi ruberesti? Quella roba che fa tutta coi piedi. Ok. L'agilità che hai nel muoverti coi piedi. Grazie. Prego. Mi fa molto piacere. Facci la telecronaca del tuo gol più bello. Allora, Milan-Florenzia. Dopo 15 minuti faccio gol. Eh, sì. Lungo ha fatto gol. Lungo si dirige verso la panchina. Lungo, Lungo è... Ma cos'è successo? Cos'è successo? Lungo a terra che dopo che ha fatto gol ha esultato e si è infortunata. Basta. Non è proprio una telecronaca, ma a me faceva ridere. Cioè, in realtà io la vivo da personaggio che effettivamente ero io. Insomma, va bene, sono passate di meme, di cose. Questo è bello. Sei pronta? Vai. Sciogli lingua. No, dai. Ma perché? Tre tigri contro tre tigri. No, dai. Ripetilo tre volte più veloce che puoi. Tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro... No. L'espresso. Allora, la faccia più brutta che riesci a fare. Chi vorresti come compagno in una sfida di calcio a cinque? Vero, Boquette. Grazie. Spagna! Valentina, se leggi tu, altrimenti chiedi a Valentina. Cosa regalerai alla squadra da capitano qualora arrivasse la qualificazione in Europa? La verità è che non ci ho mai pensato. E poi, se dovessi regalare qualcosa, sarà una sorpresa. Di una cosa che non hai mai detto alla persona che hai accanto. Ma io credo che non ti abbia mai detto che ti voglio bere. No! Cioè, semplicemente... Grazie, anch'io. Ah, guarda, ce n'è ancora uno. Ah, ce n'è ancora uno. No. Non è vero. Guardate quante domande. Qua, così. Ciao. Ciao.